La difesa di Salvatore Parolisi a poche ore dalla decisione del GIP di Teramo in merito alla convalida di arresto del caporal maggiore accusato dell'omicidio della moglie Melania cala un asso. Sul corpo di Melania Rea infatti sarebbero stati trovati capelli femminili che non sarebbero della vittima. Lo hanno dichiarato i legali di Salvatore Parolisi sostenendo che si tratta di un'ulteriore conferma dell'ipotesi di un'omicida donna. La consulenza medico-legale della procura, affermano gli avvocati Nicodemo Gentili e Walter Biscotti, racconta che sul corpo della povera Melania sono stati trovati più capelli. I primi rilievi dicono che si tratta di capelli di donna, continuano i legali, ma che molto probabilmente anche per la lunghezza non appartengono a Melania. Ci chiediamo perché, prima di arrestare Parolisi, questa fondamentale traccia non sia stata analizzata ed esaminata con l'urgenza del caso, tenuto conto anche del DNA femminile ritrovato sotto l'unghia di Melania. Questa evidente lacuna, concludo dai difensori di Parolisi, evidenzia un ulteriore macroscopico buco in un'indagine a senso unico sempre più fragile, sempre più ricca di palesi contraddizioni e di tanti, tantissimi dubbi. Intanto, in merito alla richiesta di convalida di arresto del caporal maggiore, ricordiamo unico indagato per l'omicidio volontario della moglie Melania e che attualmente si trova detenuto presso la casa circondaliare di Castrogno, la decisione del GIP dovrebbe arrivare entro 24 ore. Fonti investigative darebbero per certa la convalida.